È passato circa un anno e mezzo dalla dichiarazione di pandemia Covid, quindi come è cambiata la vita degli anziani? Lo abbiamo chiesto ai nostri associati, spiega il presidente di Antea Saragusa, Rocco Schirinà, e in generale la loro vita. È cambiata nello stesso modo in cui è cambiata la vita di tutta la popolazione. Tuttavia l'impatto che queste restrizioni hanno avuto sugli anziani è particolare proprio in relazione alla più frequente situazione di fragilità fisica e cognitiva. Schirinà ha avuto modo di confrontarsi con 20 iscritti che hanno sottolineato quali sono state le principali criticità. Il fatto, chiarisce ancora il presidente Anteas, che si siano dovute ridurre le interazioni sociali, ha drammaticamente ridotto lo spazio vitale di tutti questi anziani con un impatto negativo non solo sullo stato di funzione fisica, ma anche sul tono dell'umore e a volte anche sulle performance cognitive. L'isolamento domestico ha comportato una significativa riduzione del livello di attività fisica con conseguenze negative, in particolare nei soggetti affetti da osteoporosi, artrosi, malattie neurologiche come il Parkinson, diabete, malattie cardiovascolari. Un altro aspetto che è emerso riguarda il punto di vista psicologico. Gli anziani con cui abbiamo parlato, aggiunge Schirinà, hanno dimostrato di avere una percezione più acuta della perdita legata a una prospettiva del futuro inevitabilmente più ristretta. Le rinunce imposte dalla pandemia sono diventate genericamente più dolorose, ad esempio la mancata partecipazione ad un compleanno di un familiare e l'impossibilità di uscire sono stati i casi più frequenti che ci hanno segnalato. Schirinà inoltre aggiunge che in questi 15 mesi è importante sottolineare da quanto abbiamo appurato che i minori contatti, l'isolamento e la paura di contrarre l'infezione hanno molto spesso causato un differimento delle cure mediche con una variabilità interindividuale importante e spesso legata a differenze culturali ed economiche, ad esempio in termini di accesso a internet o utilizzo di smartphone per videochiamate. La pandemia inoltre è stata un vero e proprio stress test per il sistema sanitario, così come nel resto d'Italia, continua Schirinà, anche in provincia di Ragusa durante questo periodo sono state messe in evidenza le problematiche di alcune strutture, soprattutto quelle adibite alla cura delle persone come gli anziani. Ciò che secondo noi, conclude Schirinà, bisogna fare adesso è mantenere l'attenzione alta e riorganizzare tutto il sistema dell'assistenza a lungo termine perché gli standard di qualità diventino ovunque adeguati. Grazie. 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 Grazie.